Per una questione di rispetto nei vostri confronti sono venuto a comunicarvi che per una questione di serenità abbiamo deciso che oggi non facciamo venire nessun tesserato a rilasciare dichiarazioni perché ancora ora siamo negli spogliatoi, diciamo che il trattamento che abbiamo ricevuto non è stato un trattamento consono e quindi non c'è la serenità giusta per venire a rilasciare dichiarazioni. Credo che questo stia poi a voi a far presente quello che è successo oggi, l'avete visto tutti, noi siamo venuti qua per giocare a pallone ma purtroppo quello che è successo a livello extracampo l'avete visto, quindi solo per questo, nel senso è una questione soltanto di rispetto nei vostri confronti, mi dispiace avete fatto tanti chilometri però credo che non sia la prima volta che si parli poco di calcio quando si viene a giocare fuori casa. Senti, noi abbiamo intuito più che visto, ci può dire che cosa è successo? Allora avete visto in maniera non attenta la partita, io credo che si sia visto tranquillamente, quindi nel senso credo che sia la stessa storia di Acireale e la stessa storia di tante altre volte, noi non abbiamo mai detto niente, lo diciamo oggi dopo una vittoria ma perché più che altro non è tanto per fare polemica, sono venuto io perché volevo giustamente non mandarvi a casa senza niente, però diciamo che non c'è la serenità giusta per venire a, si rischia di dire cose che è meglio non dire, quindi è meglio far venire una persona più tranquillamente fredda e poi si riparte da martedì, contenti chiaramente del grande altro passo che abbiamo fatto.